Nel 1955 la principessa napoletana Pignatelli donò allo Stato la sua villa che si erge alla riviera di Chiaia, circondata da un ampio parco con annesse costruzioni. Venne così fondato il museo intitolato a Diego Aragona Pignatelli Cortes, uno dei migliori esempi di casa museo. Villa Pignatelli è anche la sede della Casa della Fotografia, che si segnala, tra l'altro, per l'incanto della fotografia giapponese dell'Ottocento. In Giappone, agli albori della fotografia, la tecnica occidentale della stampa all'albumina si uni alla tradizionale abilità dei pittori locali, capaci di applicare il colore anche su piccolissime superfici, a volte con pennelli dotati di un solo pelo. I risultati artistici furono di sorprendente bellezza e i soggetti rappresentati risultarono così verosimili da non riuscire a distinguerli, in alcuni casi, dalle moderne fotografie a colori di oggi. Le immagini fondono un'armonia sottile fra le cose. Paesaggi, edifici, architetture di interni, scene di vita quotidiana, ritratti di uomini e donne. Erano destinate, di solito, ai viaggiatori stranieri e offrivano rappresentazioni del paesaggio e della cultura giapponese e sono impagabili souvenir di viaggio e della memoria esotica. Ecco le opere di alcuni tra i grandi fotografi delle origini. Primo fra tutti Felice Beato, attivo negli anni di fine Ottocento, che, seguito da artisti giapponesi, diede vita a uno stile chiamato Scuola di Yokohama. Uno dei grandi interpreti della fotografia giapponese fu Kusakabe Kimbei, considerato da molti il miglior interprete della scuola di Yokohama. La scuola si caratterizza per il grande gusto dell'esotismo e il profondo rapporto tra la fotografia e le stampe dette del lukiyo-e. Attenta e curata è la proposta dell'immagine maschile, dai samurai ai bonzi, dai lottatori di sumo a tutti gli interpreti quotidiani di una realtà ideale che, talvolta, declina anche verso l'inconsueto e il capriccioso. La relazione fra il sacro e il profano è fermata in una serie di fotografie che ritraggono le attività lavorative e altre scene di vita comune, nei templi, nelle cerimonie e nelle feste. Di grande rilievo l'immagine della donna, colta nei più vari aspetti della vita quotidiana, in casa, al lavoro nelle botteghe, nei campi e anche nei quartieri a luci rosse, chiamati Città senza notte.